Filmato informativo per i pazienti. Rialzo del seno macellare, osso insufficiente per impianti nella regione posteriore. Rialzo del seno macellare. Per un risultato positivo dell'intervento è necessario molto più osso. Per ricostruire l'osso mancante è necessario creare un'apertura laterale per accedere al seno macellare. La delicata membrana che abbiamo all'interno del seno macellare, la cosiddetta membrana di Schneider, viene sollevata dall'osso. Può essere necessario inserire una membrana protettiva clinicamente e scientificamente dimostrata come Geistliche BioGuide. Con la sua struttura naturale, Geistliche BioGuide supporta la guarigione della ferita e promuove la rigenerazione ossea. La membrana viene integrata naturalmente dall'organismo dopo poche settimane. Il seno macellare si rialza con un sostituto osseo clinicamente e scientificamente dimostrato come Geistliche BioOss. L'apertura laterale viene coperta con un'altra membrana protettiva Geistliche BioGuide. Infine, si inseriscono uno o più impianti. La struttura naturale di Geistliche BioOss serve da impalcatura per la neoformazione ossea. Dopo un intervallo di tempo che va dai 4 ai 6 mesi, Geistliche BioOss si integra con il nuovo osso e poi viene incluso nel naturale processo di rimodellamento dell'osso. Ora l'impianto è ancorato all'osso naturale, proprio come la radice di un dente naturale. Ciò assicura un fissaggio solido nel tempo. Grazie al rialzo del seno macellare, gli impianti e le corone possono svolgere al meglio la funzione di denti artificiali, saldamente ancorati e con un aspetto naturale. Geistliche BioGuide e Geistliche BioOss sono i materiali per la rigenerazione ossea più usati al mondo nell'odontoiatria. Sono stati documentati scientificamente in centinaia di studi e sono stati utilizzati in più di 4 milioni di pazienti in tutto il mondo. Geistliche Biomaterials. Rigenerazione ossea naturali per denti sani. E una migliore qualità della vita.